Nel displacement, a parte quelle che sono le impostazioni del materiale, io posso lavorare con le due modalità nelle proprietà. Prima di tutto sceglierò qual è il massimo displacement che lui può raggiungere. Di default ho una suddivisione parametrica o una suddivisione denominata AgeLang. Vediamo prima la suddivisione AgeLang. Questo è un effetto di suddivisione della mesh che se attiviamo come modalità F4 eccola qua ha questo tipo di suddivisione quindi nelle proprietà dell'oggetto se io vado in generale lui mi dice che ha questo numero di vertici, questo numero di facce e se utilizzo questo tipo di suddivisione ho una suddivisione che tiene in considerazione gli Age. Questo avviene anche ad esempio in mental ray ed è una suddivisione che se ha un valore molto basso aumenta di molto il test lead quindi introduce più poligoni tra un poligono e l'altro aumentando quelle che sono le performance per il risultato finale perché più basso è questo valore più dettaglio io ottengo nel render. Adesso andiamo a aprire un file dove io ho già impostato i valori che si chiama due displacement AgeLang. All'interno di questo file io ho un materiale ad esempio con displacement a 3 cm per il primo oggetto, 0,3 cm per il secondo oggetto, 0,3 cm per il terzo quindi tutti hanno la stessa capacità di realizzare l'effetto di displacement. Se però andiamo all'interno di quelle che sono le proprietà di un oggetto, quindi dobbiamo selezionare l'oggetto diciamo proprietà io qui vedrò che ho ad esempio una suddivisione di Age a 0.1. Lui dice stai attento che se abbassi troppo i valori il sistema diventa instabile nel senso che sto introducendo un numero molto elevato di poligoni senza saperlo. Questo numero elevato di poligoni dove entra? Entra all'interno della VRAM. Proprietà 0,0,5 quindi sono sceso ancora. Proprietà 0,0,2 sono sceso di molto quindi siamo scesi abbastanza e parecchio. All'interno del render setup utilizzerò le mie impostazioni di render, qui ho la texture abilitata in questo caso, siamo in active shade mode, vado all'interno di production render e faccio un render. Qui comincerà il solito calcolo memoria utilizzata e comincerà a salire questa memoria utilizzata. Ricordatevi che questa è una GTX 970 a 4 giga di RAM però un po' è utilizzata dal sistema operativo perché ne abbiamo solo una ed è quindi se siamo questa quella utilizzata dal sistema operativo lui non ce la fa, il discorso come sempre è lo stesso. Questo diventa il collo di bottiglia in questo caso. Possiamo vedere che la suddivisione è molto importante perché va a creare il dettaglio alla fine del rendering a parte quello che è la espansione verso l'esterno, quindi se io qua ad esempio dicevo 0,5 e ho un certo tipo di espansione. Ma questo è proprio il dettaglio, vedete che qua siamo un po' al limite. Qui abbiamo un dettaglio basso, quindi un edge length troppo alto e lui non mi fa vedere tutte queste venature. Qui sono già a un buon risultato, qui addirittura entro all'interno ancora di particolari che in questo tipo di render non erano visibili. Quindi ricordatevi molto bene di questa modalità anche perché è una modalità abbastanza performante nel senso che già con questa tipologia io ho un buon risultato. E' disponibile appunto il file che io vi ho preparato, come è disponibile il render che io ho chiamato age length all'interno della cartella dei rendering che ripropone appunto queste tre possibilità.